ciao ragazzi bentornati e benvenuti nel mio canale youtube elettronic ncnc lab il video di oggi voglio provare a testare un tipo di fresa molto usato con le cnc di fascia economica come la cnc 30 18 nella realizzazione dei circuiti stampati la fresa che prenderò in esame oggi è una fresa a due taglienti piatta al carburo da 0,8 mm di diametro questa punta penso sia la più piccola come diametro disponibile in commercio al momento specialmente se si vogliono realizzare dei circuiti stampati o pcb però si presta bene anche alle lavorazioni su altri materiali come nylon resina abs acrilico ivc mdf legno duro e ovviamente vetronite e bacchelite il supporto dei circuiti stampati la caratteristica più interessante di questa punta specialmente quando si fanno i circuiti stampati è la versatilità infatti con lo stesso utensile si riescono a fare fresature superficiali per intenderci quelle delle piste con spaziatura minima di 0,8 mm tasche isole sovratagli fuori per i riofori dei componenti e se sono fuori di dimensioni maggiori di 0,8 mm si possono fare i fori elicoidali ed infine scontornature con e senza testimoni senza mai cambiare l'utensile con il test di oggi analogamente a quello fatto con il video precedente con l'incisore da 0,3 mm proverò a fresare a profondità differenti nove campioni identici di circuito stampato con un footprint di un dip 8 cioè i circuiti integrati da 8 pin a foro passante piste da 1,2 mm con spaziatura tra le piste di un millimetro e fuori da 0,8 mm vediamo adesso i parametri di lavorazione velocità su x y e z e le profondità di lavorazione passiamo adesso alla realizzazione della scheda si parte con la fresatura di due tasche una sulla sinistra da 0,08 millimetri di profondità e una sulla destra da 0,09 mm di profondità questa lavorazione serve a rimuovere il materiale all'interno di un percorso utensile dunque qui sullo schermo adesso in alta sinistra abbiamo il file di eagle con il circuito stampato ho deciso di fare diversi tipi di lavorazione come le due tasche quelle ai lati ce n'è una sinistra da 80 micron e una a destra da 90 micron e poi i nove circuiti stampati molto semplici abbiamo dip 8 cioè il footprint di un circuito integrato da 8 pin con delle piste che connettono i vari pin lo spessore delle piste è di 1,2 mm e la spaziatura tra le piste è un millimetro invece i fori per i reofori del circuito integrato sono tutti da 0,8 mm le profondità di fresatura che ho deciso di impostare sul file di lavorazione sono 40 micron per quella meno profonda poi 60 micron 70 micron 80 90 100 110 120 e 130 micron l'obiettivo come nel video precedente è quello almeno ci si prova di stabilire la profondità minima ottimale per realizzare circuiti stampati non con componenti a passo fine per intenderci non con i componenti smd ma con i componenti tradizionali quelli a foro passante comunque in questo caso si riescono a realizzare veramente tantissime tipologie di circuiti stampati e specialmente circuiti con componentistica abbastanza diffusa e quindi è una bella è una con un utensile riusciamo a fare tutte le lavorazioni presenti su questo file e su questo schema visibile bene lavorazione che stiamo eseguendo adesso è il taglio perimetrale della scheda io qui l'ho fatto fino a un millimetro di profondità per non tagliarla completamente se avessi voluto farlo avrei dovuto mettere dei testimoni uno per ogni lato sulla scheda e in pratica i testimoni sono dei punti in cui la la fresatura si interrompe per una certa lunghezza e poi prosegue oltre e oltre il punto di interruzione questo serve per far sì che la piastra ramata del nostro circuito rimanga ancorata al resto della piastra ramata ecco adesso qui sullo schermo in alto a destra vedete una lista utensili dove per ogni utensile ho impostato sulla terza colonna la profondità di lavorazione e che va da 0,04 millimetri o 40 micron a 0,13 ovvero 130 micron e le velocità di traslazione su xy sono le stesse dell'altra volta cioè quelle del video precedente 120 millimetri al minuto e invece la velocità di discesa lungo z è 60 millimetri al minuto su questo valore ho preferito mantenere gli stessi settaggi del video precedente un altro parametro che ho dovuto modificare dalla lista degli utensili nella quarta ultima colonna è l'angolo della punta in questo caso è una punta due toglienti piatta e quindi come angolo ho impostato 180 gradi passiamo adesso al settore da 110 micron quello in basso a sinistra anche in questo caso non è facile vedere dove sta avvenendo meglio e non è facile da valutare in questo momento anche perché poi la scheda prima di essere utilizzata deve essere carteggiata con una carta smeriglia fine o con una gomma abrasiva dipende dal tipo di piste che ci sono da ripulire adesso siamo passati al settore da 100 micron sulla destra al centro questo comunque è una prova con delle lavorazioni molto semplici adesso siamo al centro 90 micron passiamo adesso al settore da 80 micron quello sulla sinistra al centro adesso siamo al settore in alto a sinistra quello da 40 micron il meno profondo adesso siamo al 60 micron rimane soltanto uno e dovrebbe iniziare fra pochissimo ed infine l'ultimo settore quello da 70 micron che è in esecuzione adesso che dovrebbe terminare a momenti ecco abbiamo appena finito la fresatura dei nove settori non dimentichiamoci però che ci sono da fare i fori i fori sono 8 per ogni settore ovviamente mettersi a fare 72 fori a mano sarebbe veramente un lavoro di pura noia e in questo modo ci possiamo anche dedicare ad altro ecco vi ricordo come sempre se se fino ad ora vi è piaciuto il mio video e volete sostenermi di mettermi un like iscrivermi al mio canale bene bene a questo punto abbiamo finito tutte le lavorazioni la scheda è ancora da pulire però si riescono già a vedere le varie lavorazioni tutte abbastanza bene però per capirlo bisogna pulire la superficie della scheda come dicevo prima con una carta abrasiva fine e per finire con una gomma abrasiva così da poter rimuovere tutte le bave di rame presenti sui bordi di ogni taglio bene adesso che la scheda è stata ripulita possiamo analizzare più da vicino con un piccolo microscopio usb la superficie della scheda allora abbiamo a sinistra lo schema quello impostato sul file con tutte le lavorazioni e a destra la piastra ramata allora siamo adesso alla tasca di sinistra quella da 80 micron adesso siamo a destra la tasca da 90 micron mi sembrano venute bene entrambe adesso passiamo a quella da 40 micron quella in alto a sinistra qualche oreola cioè l'anello di rame attorno ai fori è venuto interrotta ma lì forse perché sono andato con troppa forza sulla scheda con la carta smeriglia qui siamo adesso al 60 micron anche qui mi sembra venuto abbastanza bene ogni tanto qualche piccola traccia di rame sparsa ma nessun cortocircuito qui adesso siamo al 70 micron non guardate l'indicazione a pennarello sulla scheda lì ho sbagliato io quindi seguite soltanto quella sullo schema di sinistra anche qui è venuto bene siamo adesso al 90 80 micron siamo adesso all 80 micron qualche traccia di rame un po più importante adesso 90 micron ci sono quei piccoli residui che non dovrebbero esserci 100 micron qui alcuni fori si sono aperti anche qua dovuto all'azione meccanica con la carta smeriglia siamo adesso al 110 micron mi sembra ben definita parte un corto che vedo lì sul punto in alto a destra 120 micron mettiamo a fuoco 120 micron mi sembra ben definita sempre qualche traccia di rame e infine l'ultimo 130 micron micron ma molto sporca qui in questa zona e non fresata completamente molto strano nella parte qui in basso questo non me lo aspettavo e su questo punto si potrebbe fare qualche riflessione vediamo adesso l'ultima lavorazione quella del taglio che io ho fatto parzialmente fino alla profondità di un millimetro il taglio è venuto bene avrei potuto fare il taglio completo ovviamente mettendo i testimoni uno per ogni lato ecco vedo i bordi un po' frastagliati forse per questo tipo di lavorazione la velocità è da ridurre quindi i 120 millimetri al minuto sono troppi e quel bordo lì potrebbe essere dovuto proprio al al spostamento a velocità troppo elevata lungo xy comunque è un taglio e quindi non è non è così grave però lo stesso si vede anche sulle piste ecco facciamo adesso alcune osservazioni finali su cosa ha funzionato e cosa no dunque mi sarei aspettato delle fresature parziali sulle profondità minori invece sono venute bene anche quelle da 40 micron e invece inaspettatamente a 130 micron di profondità ho trovato una fresatura parziale dove invece mi sarei aspettato un percorso completamente fresato e libero da rame ho ricontrollato il file e ho visto che comunque tutte le profondità che ho indicato nello schema di sinistra sono state correttamente programmate sulla lavorazione ecco l'unica cosa che potrebbe aver causato questo problema è la discesa in un unico step e la scheda non perfettamente aderente al piano della CNC cosa succede quindi quando noi andiamo a fare all'inizio la scansione superficiale la punta tocca in modo molto leggero la superficie della scheda senza esercitare nessuna pressione cosa che invece non accade quando iniziamo la lavorazione in questo settore io sono sceso di 130 micron in un unico step alla velocità di 60 mm al minuto e quindi in meno di un secondo ho raggiunto la profondità di 130 micron ecco probabilmente la scansione da 130 micron che viene fatta in un unico step alla velocità di 60 mm al secondo come velocità di discesa lungo z è una velocità che esercita una certa pressione e quindi se la scheda non è perfettamente aderente è probabile che nella fase di affondo la pigi e quindi falsi un po' le letture fatte con la scansione superficiale la cosa migliore da fare è dividere in più step la fresatura quindi fare gradini non della profondità complessiva ma passaggi intermedi e scendere più lentamente in modo da non schiacciare la scheda prima ancora di iniziare a lavorarla perché se poi c'è un minimo spazio d'aria tra la scheda che potrebbe essere anche leggermente sollevata sui bordi nel momento in cui vado a lavorarci sopra scendendo velocemente la pigio e quindi non riesco a lavorarla nel modo corretto e da qui nasce questo problema questo test è comunque utile perché ci permette di valutare che l'approccio che abbiamo scelto con questo nuovo utensile non può essere lo stesso che ho utilizzato nel video precedente con l'incisore da 0.3 che avendo una superficie di contatto molto molto piccola e limitata quando scendo con la lavorazione non mi crea nessun problema la punta da 0.3 mm che si appoggia alla scheda per inciderla invece con una due taglienti piatta da 0.8 mm una superficie di contatto molto più ampia se scendo troppo in fretta schiaccio anche un po' la scheda quindi è un parametro che va corretto e potrebbe essere necessario un nuovo video con queste correzioni allora un unico aspetto da considerare è che comunque la piastra ramata è da 35 micron di profondità e fresarla a 40 micron potrebbe essere un po' troppo al limite per stare un po' più tranquilli si potrebbe fresare a 70 micron che è il doppio del spessore però mi riservo di ripetere il test con le correzioni di cui ho parlato poco fa specialmente sulle velocità di scansione specialmente sulle velocità di discesa lungo z e anche lungo x y per ridurre il problema dei bordi un po' frastagliati e poi fare in modo che la scheda aderisca perfettamente al piano della CNC magari utilizzando oltre alle quattro clamp anche del nastro biadesivo sul bottom della PCB bene anche questo test è terminato direi quindi che anche per oggi abbiamo finito e se questo video vi è piaciuto le informazioni anche se poi non abbiamo ottenuto i risultati che speravo vi sono risultati utili e interessanti ricordatevi di lasciarmi un like e se volete anche commenti domande e suggerimenti inoltre se vi va di ricevere gli avvisi automatici ogni volta che carico un video e volete anche sostenere questo mio lavoro semplicemente iscrivendovi al mio canale cliccate sulla campanellina bene adesso vi saluto ci vediamo alla prossima ciao buone vacanze a tutti e buon divertimento ciao